Presidente, ovviamente è presente anche a Confagricoltura questa prima edizione, come le sembra? Mi sembra sicuramente un'iniziativa molto interessante e molto in linea con i tempi che stiamo vivendo. Oggi il problema principale anche per le aziende agricole è l'energia, quindi queste iniziative che si stanno concretizzando dal biometano all'agrivoltaico e a tutte le altre iniziative che sono presenti qui oggi, volte a risparmiare energia e prodotti chimici come gli agrofarmaci, come i concimi e anche l'acqua, perché non dimentichiamo che anche l'acqua è importantissima visto quello che è successo nell'anno passato, quindi sicuramente un'iniziativa da condividere, da supportare e secondo me da sviluppare.